la coppa e dobbiamo chiudere perché c'è il concerto il tempo è tirante benvenuti al cento di nama che ha messo in forma grazie a questi ragazzi allora ragazzi l'ultima volta che si è presentata la squadra in piazza si è vinto il campionato io non sono scaramantico ma vuoi vedere che quest'anno ci va bene un'altra volta ragazzi una parola solo, io sono molto orgoglioso di oggi ma al di là dei miei campani calcistici per il messaggio che state facendo passare perché questi ragazzi non giocano solo al calcio ma in tutto l'anno fanno attività di beneficenza fanno muovere il paese fanno attività per i bambini autistici al di là del calcio dimostrano di essere parte della loro cittadinanza una città cresce solo se ci sono i propri cittadini che la stimolano dentro e questi ragazzi lo stanno facendo e per me è un dovere ringraziarli così come dobbiamo fare un grande applauso al Comitato Festa non avete idea del lavoro, dell'impegno, della fatica e i risultati si vedono quindi ragazzi alla S&T Messandola Calcio al Comitato Festa ai nostri tre panici grazie di cui stanno contribuendo a fare grande il nostro paese noi ci abbiamo a diventare città e questo è grazie a voi il nostro popolo grazie e buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti